Taylor Swift trionfa in tribunale contro il DJ David Miller che l'aveva palpeggiata e riceve un dollaro di risarcimento, la cifra simbolica che aveva richiesto. Sostenuta dalla testimonianza di una guardia del corpo, la cantante aveva detto di aver sentito la mano del DJ infilarsi sotto la gonna dopo un concerto a Denver. Quando la cantante si è lamentata della molestia, Miller è stato licenziato. Il DJ l'aveva quindi querelata reclamando 3 milioni di risarcimento. Così Swift lo ha denunciato per molestie sessuali, vincendo entrambi i giudizi. Grazie a tutti.